Ragazzuoli, bentornati sul mio canale, io sono Laser e oggi siamo tornati su Clash of Clans per una nuovissima sfida. Intanto vi informo che state attenti per tutto il mese di dicembre perché ci saranno ricompense, sfide, cose incredibili. Dobbiamo dirlo ragazzi, dobbiamo dirlo. Le skin di Pandi Zenzero sono paurose. Comunque, questo qua è il villaggio. Cosa dovete fare? Per prima cosa mettete un bowler qua e un bowler qua perché andate a togliere la difesa aerea. Successivamente qua ci sono tre torri infernali e la stessa cosa all'altro lato. Voi prendete un vostro Super Dragon, lo piazzate praticamente fra questi due albri, quindi quello di neve e questo qua normale. Fate così, aspettate un due secondi, utilizzate la zap così resettate e lui andrà a togliere tutto e farete la stessa cosa da questo lato. Vi dico di piazzarle più vicine agli archi X perché c'è il rischio se no che vi vadano verso il deposito di oro. Ora, che cosa fate? Intanto, per prima cosa, il vostro Gran Sorvegliante deve essere in modalità aerea, perché appunto ci sono tutte le truppe aeree. Mettete un Lavalun qua, Mongolfiera, Lavalun qua, Mongolfiera, Gran Sorvegliante, Regina. Spaccate i due muri e mettete tutti e tre i draghi dietro così. Una volta fatto questo, voi mettete la furia qua davanti, una volta che loro sono entrati, e li fate andare. Mi raccomando, appena loro entrano, utilizzate l'abilità del vostro Gran Sorvegliante e dovete utilizzare le vostre fantastiche terremoto. Una qua sul castello del clan, le potete utilizzare anche tutte e tre. Io personalmente poco fa non ne ho usato nemmeno uno, però vabbè, non vi preoccupate. Una volta fatto questo, utilizzate le vostre due invisibilità davanti al castello, davanti al municipio, scusate questo, perché appunto vi andrà a togliere tutte le cose. Cosa fare ora? Utilizzate le vostre pozioni degli scheletrini davanti ai monoliti e mettete il re e campionessa. Il re andrà là bello tranquillo a distruggere i vostri depositi, la campionessa man mano vi andrà a togliere i monoliti. Non utilizzate l'abilità perché tanto non ce ne sarà bisogno. Qualora abbiate difficoltà col distruggere tutto, l'andate a utilizzare. Come vedete, ragazzoli, tutto quanto distrutto. Potrebbe capitare che questo Arco X o in generale gli Archi X qua di lato vi diano qualche problema, però non vi preoccupate. C'è l'abilità della vostra campionessa che vi sistema tutto. Va bene? Quindi, prima sfida completata, abbastanza easy. Ripeto, le terremoto forse in questa sfida sono un pochettino inutili perché io personalmente non ne trovo l'utilità. Cioè potete utilizzarle per danneggiare le Tesla, danneggiare gli Archi X, i monoliti, però non è chissà quanto fondamentale. Quindi, ragazzoli, io spero che il video vi sia stato utile. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto dopo quanti tentativi l'avete fatta, spero dopo il primo. Se non siete iscritti, iscrivetevi, un bel pollicione in su e noi ci vediamo domani con un nuovo video e una nuova live. Ciao! Ciao! grazie a tutti